Manifestazione pacifica degli OS oggi dinanzi all'emiciclo. Chiedono alla regione Abruzio e alle ASL di procedere con l'assunzione dei vincitori, sì, ma chiedono pure lo scorrimento delle graduatorie del concorso indetto dalla ASL di Teramo, quale capofila per il reclutamento degli OS nelle aziende sanitarie locali di Teramo, Lacque e Lecchieti. A manifestare c'erano gli OS, ma autonomamente, senza sindacati. Si sono presi sei mesi per fare una graduatoria. Il 17 maggio questa graduatoria è finalmente stata pubblicata, parlo di tutte e tre le ASL. Ad oggi questa graduatoria ancora non è stata presa, per cui noi ci ritroviamo ancora fermi. Nella pubblica amministrazione, lo dice la Costituzione, si entra solo per concorso, per cui noi chiediamo semplicemente il nostro diritto. Abbiamo fatto un concorso, lo abbiamo superato, ci sono i vincitori, tanto di cappello ai vincitori. Ci sono gli idonei, che non siamo da meno, abbiamo passato un concorso e chiediamo di essere assunti. Chiediamo che la graduatoria venga presa dalle rispettive ASL e venga fatta scorrere, fino all'ultimo, perché noi sappiamo che ci sono i posti per tutti quelli che hanno passato il concorso. In commissione è stata ricevuta la rappresentante degli OS, Silvia Raschiatore. C'erano l'assessore Nicoletta Verì e il manager dell'ASL, Ferdinando Romano, perché l'interrogazione riguardava la ASL 1. L'assessore ha spiegato che dal 2020 ci sono stati concorsi per le assunzioni degli OS. La graduatoria è uscita il 30 giugno, ma ci sono stati ricorsi al Tarra e per cui si è deciso di proseguire con le assunzioni, con la salvaguardia, perché ha fatto ricorso. Assumiamo, ha spiegato l'assessore in commissione, con il piano del fabbisogno ASL. Oggi c'è stata la manifestazione con la richiesta degli OS idonei, che chiedono lo scorrimento della graduatoria. Relativamente all'ASL 1, sia la Verì che il manager Romano hanno dato una certa disponibilità nel proseguire secondo il fabbisogno che l'azienda avrà, nello scorrimento della graduatoria, in base ovviamente alla capacità assunzionale della ASL e nel rispetto dei tetti di spesa. Insomma, il concetto è questo. Va fatto tutto in base alla capacità della ASL, ma lo scorrimento delle graduatorie verrà garantito.